Non c'è il fallo secondo l'arbitro, arriva Cemaili, questa volta il fallo c'è ed è nei confronti di Badu, regala all'Udinese l'ultima opportunità con Filipe, Samir, ultimo minuto, Udinese Bologna Ed è la quindicesima giornata in Peneranda, Terò attaccato, il Bologna compatto a difendersi, Udinese disperatamente la recente del gol vittoria Bidmer, ancora Bidmer, un terzo avversario, cerca di andare al cross e lo fa bene, il gol del Udinese, all'ultimo respiro si regala Il miglior compleanno possibile con Danilo, il suo capitano, 120 anni di compleanno regalati così con Danilo, all'ultimissimo secondo Udinese 1, Bologna 0 E' un buon che gol, perché il divisore centrale ti ha buoni piedi Ma qui c'è un gol dal pacchiante vero, cioè, mezzo risciata la tiene in basso, guarda come se si buoni